Le prestazioni sanitarie, le visite e le prestazioni strumentali devono essere effettuate se non esiste un criterio di priorità entro un tempo massimo prestabilito. Esistono quattro codici di priorità. Urgente, da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore. Breve, da eseguire entro 10 giorni. Differibile, da eseguire entro 30 giorni per le visite. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e, se vuoi vedere tutto il video, abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.